La carriera di attore di Simone Montedoro lo ha portato al successo Tuttavia, l'interprete ha dovuto affrontare anche una malattia seria Come sta oggi? Simone Montedoro, 51 anni, è un attore di talento e molto amato dal pubblico, soprattutto per il ruolo del capitano Giulio Tommasi nella fiction cult di Rai 1 Don Matteo Montedoro, in questa parte, ha messo grande impegno e bravura, rendendo il suo personaggio davvero impossibile da dimenticare L'attore, oltre a Don Matteo, ha recitato in diversi spettacoli teatrali e naturalmente in altre serie TV Tra i primi successi, Spicca l'Avvocato porta le nuove storie, 2000 Ha interpretato ruoli importanti in molte produzioni, come ad esempio Distretto di Polizia, Un medico in famiglia, Medicina Generale Ha inoltre preso parte, in qualità di concorrente, ad alcune trasmissioni Un certo successo, peraltro, lo ha riscosso cimentandosi come ballerino nel noto dancing show condotto da Millie Carlucci, Ballando con le stelle Qui ha ottenuto un risultato strabiliante, perché il pubblico ha potuto apprezzarlo non solo nelle vesti di attore Tant'è che nel 2017 ha vinto l'edizione Simone Montedoro dopo la malattia, vita stravolta, come sta oggi l'attore e di cosa si occupa L'attore ha dimostrato appieno il suo valore, sfruttando i suoi talenti e il suo carisma Ma, per Montedoro, non sempre ci sono stati solo periodi d'oro Nel 2014, infatti, ha attraversato un difficile momento della sua vita a causa del linfoma di Hodgkin Un tumore rischioso che riguarda il sistema linfatico In seguito alla diagnosi, l'interprete ha messo in stand-by il lavoro per potersi occupare della sua guarigione È stato un periodo non semplice, che è riuscito a superare con il supporto costante della moglie Lara Carnevale, atleta e insegnante di Ghirotonic Nel 2021, Montedoro ha preso parte ad altri due programmi Rai, ossia tale quale Show e il Cantante Mascherato Ancora una volta, ha mostrato di avere grandi doti artistiche e, fortunatamente, oggi si è lasciato la malattia alle spalle L'uomo ha provato di non tirarsi indietro di fronte alle difficoltà e di essere di tempra forte Ma cosa fa oggi Simone Montedoro? Da quanto si apprende, attualmente l'attore vivrebbe a Ibiza con sua moglie e con suo figlio Matteo Si occupa di vari progetti, è impegnato a teatro e ha molti follower su Instagram, dove li informa sulla sua vita professionale